Sì, ci stiamo allenando, stiamo cercando di preparare al meglio la partita di domenica sia tatticamente che a livello atletico. Sappiamo che è una partita importantissima sia per noi che soprattutto per i tifosi, che sappiamo che la tende ci tengono molto. Un po' di amaro in bocca per come eravamo partiti, che siamo partiti molto forti andando sul 2-0, però penso che alla fine del pareggio sia stato giusto e quindi un buon punto diciamo. Daremo il massimo come sempre, cercando di narrare al meglio la maglia arancione. Speriamo ci sia tanta gente a sostenerci e a darci una mano per portare a casa i tre punti. Ora sto bene dai, lunedì ancora non avevo 90 minuti nelle gambe e adesso con gli allenamenti cerco di mettere il più minutaggio possibile. Vi aspettiamo allo stadio per sostenerci alla grande come sempre hanno fatto e forza bisteyese!